Essere chiunque, ricchissimo, potentissimo, fighissimo, voglio essere il direttore generale di una multinazionale, il capo di governo di uno stato più potente del mondo, il rapper più ricco sfondato che ci sia, ma di fronte a Dio siamo tutti piccoli. Questo è perché Dio te lo sei inventato grosso per definizione e lo esageri a ogni occasione, in ogni maniera possibile, ma già se prendiamo il Dio delle origini, quello da cui è venuta tutta questa religione cristiana, quello non era un Dio davanti al quale sono tutti piccoli, quello era un Dio di suo piccino piccino, era un Dio che scappava pure davanti al sole, non sto esagerando, andiamo a leggere la Genesi, libro 32, dove c'è la storia di Giacobbe che a un certo punto ha un incontro con Dio, una storia che si conclude con Giacobbe che dice di aver visto il volto di Dio e questa roba è nella Bibbia. Qui leggiamo, Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora, vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore, all'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse, lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe disse, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò, come ti chiami, Giacobbe? Non ti chiamerai più, Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, dimmi il tuo nome, gli rispose, perché mi chiedi il mio nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel perché disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Questa è la visione piccina piccina di Dio da cui è cominciato il tutto. Era un Dio nazionale, un Dio locale, un patrono di una tribù, niente di più. L'Onni Dio, questo Dio megalomane, signore degli eserciti, col deolirio di potenza, tendenze narcisiste, anche quello che si è sviluppato un po' dopo di questa primissima versione, fondamentalmente anche quello, dal punto di vista psicologico, è assai piccino. È un Dio adolescenziale, un Dio aggressivo, un Dio con i complessi. Poi c'è la fanfiction cristiana che è arrivata con l'Onni Dio greco, assoluto, infinito. Quello è grande per definizione, ma è così esagerato in grandezza da essere autocontraddittorio. Dovrebbe essere un Dio infinito, cioè senza fine, ma poi si dice che dovrebbe esistere un... è Donnipotente, scusate, è Donnipresente, ma poi si dice che dovrebbe esistere un inferno dove non c'è Dio, dove c'è uno stato di separazione da Dio. Come si fa ad essere separati da una cosa senza un confine infinita che è ovunque? Questa roba non ha senso. Si arriva a parlare di un Dio onnipotente e onnibenevolente, ma poi si dice che il male c'è e non viene eliminato. Questa roba non ha il minimo senso. Questo Dio è piccino in un altro senso e un Dio di piccola credibilità. Poi... è... è... Grazie.